Costituito in maniera ufficiale il gruppo UDC in Consiglio Comunale a Licata. Ne faranno parte i consiglieri neoeletti Pino Montana, Elio Dorsi, Giuseppe Scozzari e Marianne Arnone. Nel corso della prima seduta e presenti all'unanimità hanno eletto capogruppo Pino Montana. Parte da oggi un percorso politico e programmatico verso la città di Licata, spiega il capogruppo. L'UDC lavorerà sul territorio e per il territorio. Il gruppo neocostituito in Consiglio Comunale siederà all'opposizione facendo della stessa strumento di costruzione e non di rottura con il fine di raggiungere l'obiettivo della rinascita socio-economica della tanto bistrattata città di Licata. Saremo vigili e attenti sull'operato dell'amministrazione comunale Prosegue Montana che ha il dovere di lavorare nell'interesse collettivo escludendo sempre il singolo a favore del bene comune. Lavoreremo con i nostri ideali incentrati sui bisogni reali della gente. Faremo domande e noi per primi ci impegneremo per avere risposte. Saremo un'opposizione attenta, precisa, moderata ma pungente, conclude il capogruppo dell'UDC Montana che eloggerà e all'occorrenza criticherà il lavoro della maggioranza. Lavoreremo come sempre per Licata.